Da lunedì 19 aprile la campagna torna in zona arancione e ritornano in classe anche gli alunni di seconda e terza media, mentre alle superiori si rientra al 50%. È stata così disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale, previsti per il traffico scolastico. La Regione ha anche dato il via libera all'attivazione, su richiesta dei comuni, nel supporto dei volontari della protezione civile nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici e degli snodi critici del sistema di trasporto pubblico locale. E fino al 15 maggio, si legge nell'ordinanza numero 14 del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, barbieri, parrucchieri ed estetisti, sarà permessa dalle ore 7 alle ore 21 e 30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. Fermo restando, si legge nell'ordinanza, il rispetto della normativa tutela dei lavoratori dipendenti. In zona arancione sono consentiti spostamenti nel comune di residenza tra le 5 e le 22, altrimenti solo per lavoro, studio, salute e necessità. Barre e ristoranti chiusi, sia a servizio a domicilio senza limiti di orario e a sporto fino alle ore 18 per i bar, fino alle 22 per gli altri. Aperti i negozi tranne nei centri commerciali in giorni festivi e prefestivi. Chiusi i cinema, teatri, palestre e piscine. Si può praticare sport nel comune, all'aperto e da soli o in centri sportivi all'aperto. Sia alle visite una volta al giorno tra le 5 e le 22, verso una casa nel comune di residenza per due persone under 14 e disabili esclusi. Attenzione tuttavia a non abbassare la guardia, lo dice Aristide Tortora, responsabile prevenzione dell'ASL Salerno. Non vorrei che le riaperture fossero un segnale di resa nella consapevolezza di tempi ancora troppo lunghi per debellare questa terribile pandemia. Credo che stiamo assistendo alla graduale transizione da pandemia ad endemia, afferma il medico, che significa convivere ancora tanto tempo con il Covid-19. Per questo l'unica strada a Chiosa Tortora è vaccinarsi tutti e presto.